Allora, avete visto che durante le lezioni finora, in vari punti, soprattutto durante la parte relativa alla realitarietà, abbiamo menzionato i pattern. Ecco, a questo punto vorrei velocemente riepilogare che cos'è un pattern. Il concetto di pattern non è soggetto, non è argomento d'esame, diciamo che è una conoscenza un po' così più generale, però è un modo, tutto sommato, abbastanza utile di andare a sistematizzare delle conoscenze, delle soluzioni specifiche. Quindi parliamo velocemente di design pattern, che cosa sono, e poi vediamo in pratica come possiamo utilizzarli, con qualche esempio concreto, nel risolvere i nostri problemi. Allora, la definizione più generale che abbiamo di design pattern è quella di una soluzione riutilizzabile per un problema noto, in un contesto definito. Questa, se volete, è una definizione molto, molto sintetica, molto, molto semplice, ma diciamo che riprende gli aspetti fondamentali. Innanzitutto si tratta di una soluzione, ok? È un qualcosa che voi potete prendere e utilizzare per risolvere i vostri problemi. Quindi la soluzione è specifica per un dato problema, quindi il pattern, oltre a descrivere la soluzione, deve descrivere anche il problema che si pone di risolvere, e non soltanto il problema, ma definisce un particolare contesto, perché il modo scherzoso con cui faccio spesso le domande, è meglio questo, o l'opzione A o l'opzione B, dove la risposta inevitabilmente sempre dipende, la risposta del buon ingegnere, ecco, non sempre la stessa soluzione si può applicare in tutti i contesti. Quindi i pattern, per come sono descritti, riconoscono questo aspetto, e quindi definiscono un contesto specifico, e all'interno di questo contesto, dato un problema forniscono una soluzione. Tra l'altro neanche la soluzione è unica, quindi dato un contesto e un particolare problema è possibile avere più soluzioni, quindi più pattern che risolvono lo stesso problema. Vi faccio un esempio. Siamo al supermercato, ci sono un po' di persone davanti al banco gastronomia che vogliono prendere i loro duetti di prosciutto. Questo è il contesto, ok? Non c'è un problema, è una situazione in cui mi trovo. Il problema è che i clienti discutono su chi è il primo e ovviamente l'ordine di arrivo dovrebbe essere rispettato, nel senso che se uno aspetta da un quarto d'ora vorrebbe essere servito prima di chi è appena arrivato. Tuttavia, non essendo strutturato, non essendo fatto in maniera... con delle corsie predefinite, è difficile andare a capire chi è stato l'ultimo a arrivare o il primo. La soluzione è fornire dei biglietti numerati che i clienti possono andare a prendere man mano che arrivano in modo che possono essere chiamati tramite questo numero. Ok? Ovviamente questo non è un pattern di design di software, ma bensì è un pattern sociale. Quindi abbiamo un contesto, abbiamo un dato problema che si verifica in questo contesto e una possibile soluzione. Di nuovo, in quel contesto non è l'unico problema che possiamo avere e dato quel problema questa non è l'ultima soluzione, l'unica possibile soluzione. Molto spesso i pattern sono descritti come una serie di elementi che intervengono, che è un modo un pochettino generale di andare a descrivere i problemi. Molto spesso queste vengono chiamate delle forze. Forze che intervengono in un particolare contesto e che portano, insomma, originano un problema. E quindi la soluzione cerca di andare a risolvere queste forze in modo da risolvere il problema. Quest'idea di forze che interagiscono l'una con l'altra e si contrastano è data un po' dall'origine dell'idea di pattern che è un'origine architettonica dove parliamo di architettura di edifici. Il primo che ha parlato di pattern, di progettazione è Christopher Alexander, che è un architetto. lui parlava di edifici e parlava di pattern per poter andare a progettare la struttura di un edificio. Per cui, so, ho una stanza, ma questa è buia, quindi cosa faccio? Devo aggiungere una finestra, ma la finestra come la aggiungo? La aggiungo in una certa posizione in modo che mi dia il massimo della luce. Quando parliamo di software, l'idea di software, di pattern software è stata importata nel contesto software un po' più recentemente da quello che si chiama il libro Design Pattern GOF, che è quello, la cui copertina trovate qua. Il titolo completo è Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Gli autori, che sostanzialmente potete leggere, sono molto piccoli qui, sono Eric Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson e John Lucidis. Essendo quattro gli autori, sono stati soprannominati la Gang of Four, ovvero la Gang dei Quattro. Quindi questo libro, che è il primo, che parla di pattern in contesto software, viene abbreviato come GOF, Gang of Four. Quindi i pattern GOF sono i pattern descritti in questo libro. Trovate, il libro è ancora disponibile, trovate credo una versione anche online, liberamente accessibile, ed è, se volete, una lettura interessante. Ok? Noi, ovviamente, non è parte del corso, ma vi dà una chiave di lettura aggiuntiva, non tanto sugli aspetti di sviluppo ad oggetti molto specifici che trattiamo in questo corso, ma può essere utile quando andate ad applicare le conoscenze che acquisite in questo corso in un contesto un po' più ampio di sistemi software complessi. Quando parliamo di design, pattern, noi facciamo riferimento a un particolare tipo di pattern nel contesto software. Sostanzialmente, volendo fare una classificazione, ci sono almeno tre tipologie principali di pattern di tipo software. I pattern architettonici, i pattern di design o di progettazione o strutturali e i pattern che vengono chiamati idiomi. Quando parliamo di pattern architetturali, parliamo di pattern che descrivono la struttura generale di un software. Definiscono un modo di andare a organizzare i vari componenti principali di un software e definiscono quelle che sono le linee guida per le relazioni e le modalità di interazione tra i vari componenti. Ad esempio, se ci troviamo tanti programmi che vengono utilizzati in sequenza e ciascuno legge in input l'output di quello precedente, possiamo avere... Allora, questo è il contesto. Il contesto di per sé non è un problema. È la situazione in cui ci troviamo. Il problema è che ci sono normalmente un sacco di file intermedi che sono utilizzati per la comunicazione tra i programmi. La soluzione potrebbe essere quella di utilizzare quella che si chiama un'architettura pipe and filter in cui io vado esplicitamente a collegare l'output di un elemento con l'input dell'altro. Quindi il collegamento si chiama pipe, i vari programmi che elaborano i dati si chiamano filter. È un'architettura abbastanza diffusa. se utilizzate dei sistemi operativi che permettono di combinare in maniera flessibile i programmi avete questo direttamente da linea di comando, da shell. Questo è un esempio di pattern architettonico. Ovviamente l'ho sintetizzato molto, giusto per darvi gli elementi fondamentali. Poi il pipe and filter è la descrizione completa è un pochettino più complicata, però giusto per darvi un'idea, questo è un tipo di pattern architettonico. Il secondo tipo di pattern che sostanzialmente sono stati quelli introdotti per primi nel contesto software è quello che si chiama il design pattern che dà una serie di regole e di soluzioni per andare a strutturare un sistema software e ovviamente le relazioni tra i vari elementi. Normalmente qui parliamo di classi e oggetti. Prima parlavamo di componenti, quindi se pensiamo al contesto Java, prima magari parlavamo di package interi, qui stiamo parlando di classi, oggetti, metodi che possono essere strutturati in un certo modo. esempio, il contesto è quello in cui abbiamo una libreria di classi che fornisce poche funzionalità, ma questa libreria contiene tante classi perché le funzionalità sono molto articolate. il problema che ho è che l'utente è esposto a una serie di complessità interna della libreria che ragionevolmente potrebbe tranquillamente ignorare, che non possono essere utilizzate direttamente senza conoscere nel dettaglio il funzionamento della libreria e senza rischiare di farla funzionare in maniera errata. La soluzione è quella di creare una classe specifica che viene chiamata facade, facciata, che ha lo scopo di interagire con l'utente della libreria e nascondere tutti i dettagli che stanno dietro. Questo è un design pattern. Tra l'altro è un design pattern che si trova nel libro The Gang of Four. Di nuovo, ho semplificato molto, ci sono alcuni aspetti implementativi di dettaglio sulla creazione di una classe di tipo façade, ma di nuovo per darvi l'idea. Terza tipologia di pattern sono quelli che vengono chiamati idiomi. Sono dei pattern di basso livello, quindi mentre i design pattern tendenzialmente lavorano, come dicevo, a livello di classe e oggetti, gli idiomi lavorano molto spesso a livello ancora più basso e descrivono dei modi specifici di un dato linguaggio di realizzare alcune strutture tipiche. Quindi, mentre i design pattern e ancora di più i pattern architettonici sono tendenzialmente indipendenti dal linguaggio, ci può essere qualche piccola differenza nel modo in cui li realizzo. Qui, se utilizzo Java piuttosto che JavaScript, C++, Python, Kotlin o altro, i dettagli sintattici saranno leggermente diversi, ma sostanzialmente la struttura è sempre la stessa. Quando parliamo di idiomi, ecco qui, visto che buona parte della descrizione di un idioma è la parte sintattica, ecco, cambia praticamente tutto, perché ci dicono nello specifico una particolare struttura come viene realizzata in un dato linguaggio. Vi faccio un esempio. Nel contesto in cui io ho un attributo che ha un valore costante che non dovrebbe essere modificato e dovrebbe essere disponibile a tutte le classi in un programma, io ho il problema di rendere accessibile questo attributo senza dover voler lasciare e modificarlo da chi non si sa, perché se l'accesso è aperto o rischi che qualunque classe o componente lo possa modificare senza l'autorizzazione, l'altro problema è che lo stesso attributo se è pubblico viene ripetuto in tutti gli oggetti, per cui la soluzione che viene adottata in Java è quella di dichiarare l'attributo come public static final, che è quello che abbiamo visto già nelle prime lezioni su Java, il modo standard in Java di andare a realizzare le costanti. Per cui questo modo peculiare di Java di realizzare le costanti è specifico di Java e è diverso se voi andate a prendere un altro linguaggio. Per cui gli idiomi sono specifici di un linguaggio. Finora io vi ho descritto in maniera molto molto sintetica e semplificata un pattern in funzione di chi vi descrive il pattern e di che struttura usa può andare a descrivere il pattern in maniera diversa. Qui vi ho riportato due strutture due template diciamo così di descrizione di pattern uno è quello del Gang of Four quindi del libro che vi menzionavo prima l'altro è un pattern proposto da Jim Copeland un altro ricercatore molto attivo nel contesto di definizione di pattern quando parliamo di pattern ovviamente abbiamo un nome abbiamo il problema che risolve il contesto e nella struttura proposta da Copeland abbiamo le forze quindi il problema è una descrizione tutto sommato sintetica di qual è l'obiettivo del pattern le forze descrivono nel dettaglio il problema in termini di forze che interagiscono all'interno di quel contesto la soluzione quindi la descrizione di come faccio a risolvere un particolare il problema e la risoluzione delle forze quindi qual è il risultato dell'applicare quella soluzione in quel contesto con quelle forze il che vuol dire anche eventuali controindicazioni o effetti collaterali nessuna soluzione è perfetta può avere degli effetti collaterali per cui posso trovarmi di qua e c'è anche un design razionale ovvero la motivazione che sta dietro a questo tipo di design questo tipo di soluzione la struttura che è in go for di nuovo è molto simile per cui abbiamo un nome l'intento quindi se volete è un po' legato al problema la motivazione e l'applicabilità che descrivono un po' il contesto per cui vado a descrivere tutto la motivazione in parte descrive anche quello che è il design razionale quindi qual è l'idea che sta dietro al pattern e poi ho quello che di qua era chiamato soluzione nella struttura in go for è ulteriormente suddiviso in struttura partecipanti collaborazioni e quindi ho questi tre elementi che vengono di solito ripetuti per tutti i pattern e che descrivono nel dettaglio tre aspetti diversi diversi di una soluzione le conseguenze che corrisponde sostanzialmente alla risoluzione delle forze quindi con eventuali effetti collaterali problemi nuovi che vengono introdotti nel libro Gang of Thought c'è una sezione che si chiama implementation in cui vengono dati all'epoca java sostanzialmente non esisteva era appena stato proposto quindi le implementazioni in quel libro sono tutte in cppu ma trovati in giro implementazioni dei pattern Gang of Thought fatti in qualunque linguaggio se andate banalmente a cercare su wikipedia i pattern Gang of Thought li ritrovate con frammenti di codice in fang linguaggi non soltanto in cppu e poi abbiamo pattern legati perché molto spesso un pattern non esiste a se stante ma esiste nel contesto di un pattern language o sistema di pattern per cui io ho due pattern che spesso vengono applicati assieme perché risolvono assieme varie soluzioni o un pattern più specifico che viene utilizzato per implementare parti di un altro pattern oppure un pattern che può essere introdotto a valle di un altro per risolvere le problemi che sono stati introdotti per cui l'idea è che io posso avere un linguaggio di pattern che mi permette di andare a comporre una soluzione usando dei pattern nel libro gang of four i pattern sono presentati come un linguaggio e sono suddivisi in tre principali categorie creational structural e behavioral creational sono i pattern per andare a costruire oggetti o insieme di oggetti per cui abstract factory ma anche factory method singleton ok sono pattern che abbiamo già visto a livello strutturale mi descrivono come posso andare a strutturare il mio insieme di classi per cui facade che abbiamo menzionato prima e che abbiamo utilizzato un sacco di volte magari senza chiamare in questo modo o composite qui magari vediamo un esempio tra poco sono esempi di pattern strutturali e poi abbiamo dei pattern comportamentali che mi descrivono una struttura per ottenere un certo tipo di comportamento template method è un altro pattern che abbiamo visto observer pure e quindi abbiamo tanti pattern che abbiamo visto essere particolari applicazioni di strutture del linguaggio quindi buona parte di pattern soltano in un modo o nell'altro l'ereditarietà perché è quella che ci dà quella flessibilità in più che ci permette di realizzare questi pattern e quindi li posso utilizzare tanto per darvi qualche numero concreto i pattern sono stati classificati abbiamo detto in creation structure e behavioral e poi ulteriormente a livello di classe o a livello di oggetto per cui a livello creazionale abbiamo un pattern a livello di classe e quattro di oggetto a livello strutturale abbiamo un pattern a livello di classe e sei a livello di oggetti e in termini di pattern comportamentali ne abbiamo due a livello di classe e dieci a livello di oggetto ok quindi abbiamo un totale di 24 pattern nel nostro libro Gangler 4 ovviamente dalla pubblicazione di quel libro tantissimi altri pattern sono stati proposti e quindi ne potete trovare insomma descritti in tanti libri in tanti contesti diversi non vi illustro tutti i pattern li trovate nelle slide che sono pubblicate sulla pagina del corso ma buona parte di questi li abbiamo già visti ok vi segnalo un paio di libri allora uno è quello il Gang of Four quindi quello originale diciamo che se lo trovate una lettura così istruttiva ovviamente non ha senso che vi andate a leggere tutta la parte di implementazione in CPU più però capire un attimo come funzionano come interagiscono tra di loro è molto utile anche perché i pattern poi li ritrovate in buona parte dei sistemi che andrete a vedere o che andrete a sviluppare o che andrete a modificare dovendo capire come funzionano quindi capire un attimo cosa sono questi pattern è molto utile un altro libro è questo che si chiama Add First Design Patterns che è ovviamente molto più recente e prende i design pattern buona parte di questi pattern della Gang of Four ma non esattamente quelli insieme lì e vi descrive l'implementazione e le variazioni i risultati eccetera in Java quindi il grosso vantaggio è che in questo secondo libro le soluzioni sono già implementate in Java quindi sono nel linguaggio che abbiamo a disposizione però di nuovo i design pattern si possono implementare tali quali in buona parte dei linguaggi di programmazione ad oggetti a questo punto vi propongo un esercizio e poi vi vediamo assieme la soluzione che sfrutta un pattern specifico che si chiama Composite che non abbiamo visto finora ma che può essere molto utile passiamo alla al nostro Eclipse chiudo tutto riapro il nostro progetto di partenza e vado a creare un nuovo package di polito pro punto espressioni creo una classe main con un main esempio e vado a scrivervi quello che potrebbe essere una una struttura io vorrei chiamare qualcosa espressione uguale numero due più numero anzi variabile x per numero 5 queste potrebbero essere nomi di classi ma fatemelo scrivere come metodi l'espressione ovviamente ha un nome che possiamo chiamare E e io vorrei poter scrivere E punto assegna x virgola 3 e poi double risultato uguale a E punto valuta anzi lo faccio scrive in alto modo con no no Ok, quindi questo è quello che vorrei andare a scrivere. E visto che ce l'abbiamo, system.out.println risultato. Ok. Come faccio a costruire questa struttura? Però ovviamente io posso andare a scrivere qualunque altro tipo di espressione. Che struttura posso utilizzare? Suggerimenti? Albero. Binario, sì, perché buona parte degli operatori sono binari, sì. Non lo restringerei a essere strettamente binario perché qui non c'è l'esempio, ma potrei avere, non so, il meno unario di cambio di segno. Ok. Per cui albero sicuramente sì, non strettamente binario. Allora, fare un albero di elementi che è una classe di base, poi può essere implementata come variabile operazione numero. Ok, una struttura ricorsiva che può valutare espressioni, non può valutare espressioni, il numero ancora numeri. Sì. Ok. Direi che ci siamo. Mi viene in mente un BST. Avete fatto così l'algoritmo di programmazione? Sì, anche perché normalmente la struttura è un... diciamo che una struttura di un'espressione si presta molto bene a essere rappresentata come un albero. Anche perché poi la visita dell'albero permette di andare a calcolare i dati. Ok. Quindi... Apro un attimo Asta, così vi disegno il diagramma. Eccolo qua, scusate. Diagramma delle classi. Anzi, prima di fare il diagramma delle classi, vi faccio un diagramma... diciamo di oggetti, quindi quello che si chiama Communication Diagram. L'espressione è quella che... Me la ricopio un attimo. È questa qua. Ok. Che, diciamo che potremmo scrivere... Diciamo così. Ignoriamo il problema delle precedenze. E quindi facciamo... Questa equivale a 2 più 3 per 5. Ok. Visto che il più viene messo prima, lo viene fatto prima. Ok. Guardate, non 3 ma bensì x. Poi ovviamente possiamo modificare il nostro codice in modo da tenere conto del fatto che se ho la variabile qui, e poi il per dopo potrebbe anche darmi un risultato. Però comunque, numero più vuol dire che il risultato della somma viene poi moltiplicato per 5. Guardate, io qui x l'ho messa come variabile, in realtà devo metterla come nome, ok? Perché x non esiste. a questo punto la struttura d'albero prevede un numero che è 2, x è una variabile, e poi abbiamo il nostro 5, mi pare l'hanno detto, non mi ricordo più cosa ho scritto, 5, sì, che è un numero ovviamente qui ho bisogno di un di un node intermedio che sia che è legato a questo ma è legato anche a quest'altro e il risultato di questa somma verrà moltiplicato con l'altro e quindi avrò bisogno di un altro nodo che è per che è un prodotto. forse riusciamo a farlo, eccolo qua. E questo in realtà diventa la nostra espressione. Ok? Quindi alla fine è un albero binario in questo caso specifico. In un caso più generale, ripeto, potrei avere anche un meno unario o altre funzioni unarie che so il logaritmo, la radice quadrata, eccetera, che non necessariamente sono binarie ma sono unarie come operatori. Però l'idea è sostanzialmente questa. Ora, è ovvio che io potrei considerare tutto questo come un'espressione che è quello che io vorrei fare, ma avrei anche potuto fermarmi quando dopo aver fatto 2 più variabile x e quindi avrei potuto considerare come espressione anche soltanto faccio così anche soltanto questa parte qua. l'idea è che ho anche soltanto un numero l'idea è che tutti questi possono essere sfruttati esattamente lo stesso modo sono tutti equivalenti se io posso andare a calcolare il risultato del mio prodotto di risultato della somma per 5 oppure posso andare a calcolare semplicemente il risultato della somma quindi l'idea è tutti questi nodi vorrei fossero trattati esattamente allo stesso modo come faccio ad avere tante tipologie diverse perché è ovvio che se guardiamo questi tre nodi che stanno nella somma nelle nell'ellisse abbiamo un nodo di tipo numero un nodo di tipo variabile e un nodo di tipo operatore di somma sono diversi ma vorrei poterli trattare tutti allo stesso modo qual è il costrutto della programmazione di oggetti che mi permette di trattare degli elementi etriapogenei allo stesso modo ovviamente è l'ereditarietà quei tre nodi specifici devono essere di tre classi che sono specializzazioni di un'unica classe di base quindi ricadiamo in in quello che si chiama il pattern composite che vi presento velocemente qua contesto devo andare a rappresentare delle gerarchie parte tutto ok il numero e la variabile sono una parte l'espressione e il tutto e sono sostanzialmente gerarchiche quindi abbiamo una struttura d'albero gli utenti possono essere complessi perché potremmo avere il calcolo potremmo avere la stampa ecco non vi ho fatto la stampa ma adesso la aggiungiamo e vorrei quindi poter trattare i vari elementi in maniera uniforme pur con una differenza importante perché ho degli elementi che sono semplici quindi il numero è la variabile diciamo così sono le foglie del nostro albero e invece elementi che sono complessi quindi composti la struttura che posso utilizzare è quella che ci definisce il pattern composite il pattern composite prevede di avere una classe di base che di solito viene chiamata component nel nostro caso espressione probabilmente che ha due sottoclassi principali foglia e composite ovviamente il pattern è semplificato nel nostro caso potremmo avere due tipologie di foglie e tante tipologie di composite potremmo avere una foglia che è la variabile e un'altra foglia che è il numero nel composite potremmo avere la somma il prodotto la radice quadrata eccetera che cosa hanno in comune tutti questi elementi beh sostanzialmente hanno in comune un'operazione che è un'operazione di calcolo voglio calcolare il valore di una particolare espressione o sottoespressione ovviamente in generale io posso aggiungere o togliere dei componenti l'aggiunta la rimozione oppure l'ottenimento dei sottocomponenti è un'operazione che in generale io posso fare sul componente quindi la classe di base che non ha nessun corrispettivo sulla foglia ma che viene implementata in modo particolare in termini di composite quindi l'elemento composto ok quindi questo è il tipo di struttura che ci suggerisce il pattern composite e noi cerchiamo di realizzarla nel nostro sistema ok suddividiamo lo sviluppo in due fasi torno sul codice la prima fase è la struttura interna del nostro della nostra espressione la seconda fase è poter andare a scrivere in questa maniera che di solito viene chiamata fluent la costruzione di un'espressione ok quindi dividiamo in due fasi per fare questo andiamo a definire un caso di test JUnit ok lo facciamo a partire dai test ovvero usiamo l'approccio che si chiama test driven development scriviamo prima il test di come dovrebbe comportarsi il nostro programma e dopo di che andiamo a scrivere il codice che effettivamente si comporta come descrive il test ok quindi test diciamo struttura vado un attimo a commentare questa parte qua ok perché altrimenti non riusciamo a eseguire il codice e andiamo a definire il test elemento per elemento quindi noi abbiamo un'espressione è uguale numero 42 test numero quindi iniziamo dagli elementi semplici andiamo a scrivere un test per poter andare a creare un'espressione banale che è quella data da un numero e andiamo a fare un assert equals e punto value devo mettere prima il valore atteso 42 punto 0 e punto value e qui vado a mettere 0.1 ricordatevi che quando facciamo un confronto con le variabili di tipo floating point esiste sempre ed è molto frequente il rischio che il valore non sia esattamente uguale a quello che vogliamo per problemi di arrotondamento quindi quando facciamo dei confronti con variabili booleane mai utilizzare un uguale uguale perché potremmo avere un caso di valutazione errata da ricordare a questo punto io salvo il mio test faccio un run as junit test mi dice che ci sono degli errori dico di procedere e ottengo come era ovvio una barra rossa la barra rossa mi dice guarda che ci sono dei problemi di compilazione quindi non si riesce neanche ad eseguire quella classe ok a questo punto il primo passo di ogni approccio test driven è scrivere un test e vedere che fallisce perché perché se io scrivo un test e questo test ha successo vuol dire che non mi aggiunge nulla di nuovo rispetto a quello che già faceva il mio programma sostanzialmente non mi porta a scrivere nessun codice aggiuntivo e quindi un test che appena scritto ha già successo vuol dire che sostanzialmente è inutile ricordatevi che il nostro approccio è prima scrivo il test dopodiché scrivo il codice che supera il test quindi se il test già passa vuol dire che non devo scrivere nessun codice quindi quando parliamo di tdd è uguale di test driven development il passo uno è scrivo un test due verifico che il test fallisca ok può essere un failure oppure un errore tre scrivo il codice per superare il test quattro ho esaurito i requisiti no torno al passo uno cinque passo al prossimo requisito e questo è il processo che noi seguiamo a questo punto per far funzionare questo codice ci serve una classe che si chiama espressione vedete che avendo lavorato in questo package già la classe mi viene proposta dentro tipo litroespressioni e va bene mi manca numero quindi numero devo metterlo da qualche parte ok dove lo posso mettere lo posso mettere in tanti posti una posizione potrebbe essere quella di metterlo qui come public static espressione ok quindi per far funzionare questo codice devo fare un import static espressione punto scusate devo scrivere il nome della classe completo quindi t polito pio espressioni punto espressione punto asterisco ok l'import richiede di mettere il nome completo della classe l'espressione ovviamente qui prevedo di mettere un double n altrimenti non funziona quindi vedete che la prima linea a questo punto funziona l'assertiquas prevede anche che ci sia un metodo che si chiama value e quindi ci facciamo creare un metodo value in espressione ce lo suggerisce eclipse quindi facciamo prima farcelo fare da eclipse piuttosto che farlo noi a mano quindi il primo sottopasso della scrittura del codice è avere il nostro test che quantomeno sintatticamente funzioni e quindi torno su junit eseguo il test che ovviamente fallisce perché abbiamo null qui allora domanda come mai non riusciva a vedere il metodo static qua allora non riusciva a vedere il metodo static perché si trovava nella classe espressione ok questa classe è test struttura il metodo statico si trova nella classe espressione io allora avrei potuto scrivere espressione punto numero vedete che lo vede tranquillamente ok menziono la classe la classe ha lo stesso package e la vedo senza problemi per poter scrivere semplicemente numero senza espressione prima devo fare un import static quando faccio un import devo mettere comunque sempre il nome completo di espressione e poi l'asterisco vedete tra l'altro che qui c'è un import static org junit assert punto asterisco perché nella classe assert nel package org junit ci sono tutte le i metodi di assert come ad esempio assert equals se non facessi questo import static qua dovrei scrivere assert punto assert equals quindi semplicemente è una scorciato in più a questo punto torno alla mia espressione allora domanda la domanda a questo punto però è sul metodo TDD la domanda è pur essendo questo un metodo ben definito strutturato a passi non c'è il rischio di andare a creare del codice che è mirato a superare soltanto i test e non andare a invece creare del codice che sia più generale più utilizzabile allora il rischio sicuramente c'è il TDD è una tetica molto specifica che può essere utilizzata in alcuni contesti non vi ho menzionato quello che viene dopo che è diciamo il passo 6 effettuo il refactoring ovvero una volta che il codice che funziona e quindi fa quello che deve fare allora metto mano al codice e lo ristrutturo in modo che sia più pulito facilmente comprensibile ed eventualmente riutilizzabile come faccio a fare il refactoring qui mi vengono in aiuto i test perché qualunque piccola modifica che io faccio al codice per ristrutturarlo migliorarlo renderlo più comprensibile dopo ogni piccola modifica posso rieseguire i test e verificare che questa piccola modifica non mi abbia alterato le funzionalità quindi l'insieme di test che io ho inizialmente utilizzato come guida test driven quindi sviluppo guidato dal test dopo sono quella rete di sicurezza che mi permette di andare a fare le modifiche e a fare la ristrutturazione senza rischiare di compromettere le funzionalità del mio sistema e quindi sì c'è questa preoccupazione ed è fatta normalmente a posteriori la logica dietro il TDD è la mia prima preoccupazione è avere il codice che funziona e se non ho il codice che funziona può essere bello riutilizzabile facilmente comprensibile però è inutile e quindi prima ho il codice che funziona dopodiché vado ad abbellirlo c'è il rischio sicuramente se non faccio attenzione di avere del codice che poi è quasi impossibile da ristrutturare perché è scritto male però in realtà il rischio c'è comunque posso scrivere il codice male anche senza TDD il TDD mi dà un approccio strutturato e ho il vantaggio di avere poi i test alla fine perché comunque sono stato obbligato a scrivere all'inizio non è quello che si chiama il silver wallet quindi non è la soluzione che uccide il problema del sviluppo del software però è un metodo che ha vantaggi e svantaggi quindi è uno strumento che è utile conoscere perché in alcuni casi può essere applicato e darci dei buoni risultati torno alla nostra classe espressione qui dobbiamo creare un numero abbiamo detto che vogliamo andare a creare una struttura e qui andremo a creare una nuova classe numero di n numero non esiste chiediamo Eclipse di crearcelo vedete che il fatto che io abbia creato un new numero abbia restituito numero all'interno di un metodo che restituisce un'espressione ha permesso Eclipse di capire che numero extend l'espressione quindi qui abbiamo private valore scusate double valore e abbiamo un costruttore che è numero public numero double n is valore uguale n torno alla mia espressione torno al mio test rieseguo il test il risultato ovviamente è un fallimento perché perché largo un attimo qua si attendeva 42 ma ho ottenuto 0 ho ottenuto 0 perché ovviamente dentro l'espressione c'è un ritorno di 0 ecco a questo punto come implementiamo il nostro value che è l'operazione che vogliamo fare sul nostro sulla nostra espressione che cosa scriviamo qua dentro la classe espressione non saprei ok la mia idea è di dire questo può essere un metodo abstract e quindi anche questa classe diventa abstract di conseguenza numero che invece è una classe concreta deve implementare il metodo value override value e qui andiamo a restituire il nostro valore rieseguiamo il test a questo punto finalmente abbiamo la barra verde benissimo andiamo avanti con i test andiamo a scriverli un po' velocemente così andiamo avanti un po' spediti test somma l'espressione è uguale a numero punto più numero tre assert equals a questo punto 42 più 3 fa 45 mi aspetto di avere un 45 della mia espressione domanda perché abbiamo messo abstract dentro espressione allora qui ho messo abstract perché espressione rappresenta le espressioni generali quindi quando chiamo il metodo value su un'espressione che valore dovrei restituire non lo so nel senso che quell'espressione lì potrebbe essere un numero che è quello che abbiamo creato potrebbe essere un operatore potrebbe essere una variabile dentro la classe espressione è una classe per l'appunto troppo astratta per poter definire che cosa fa value quindi come facciamo a calcolare un'espressione dipende molto dal tipo specifico di espressione quindi l'idea è la lascio abstract in modo che qui non sia forzato a scrivere qualche metodo che ovviamente è inutile perché questo rappresenta un'idea astratta e faccio realizzare questo metodo alle sottoclassi numero variabile eccetera eccetera ok torno qui a questo punto manca il metodo più che possiamo andare a mettere in espressione public e questa volta non è static perché viene chiamato sull'oggetto ok quindi non è static è un'espressione scusate non numero ma più espressione e return null per il momento ok giusto a questo punto il primo passaggio di nuovo è avere del codice che sintaticamente funziona se vado a eseguire il mio test ovviamente il test numero continua a funzionare test somma mi dice null pointer exception perché ovviamente questo ci restituisce null quindi fallisce vuol dire che il codice che c'è non è sufficiente devo aggiungerne quindi qui vado a fare return new somma di this virgola e quindi creo un nuovo oggetto somma che prende come due operatori l'oggetto this su cui è chiamato il metodo più e l'espressione che viene passata come secondo parametro come parametro scusate quindi creo la classe somma e qui vado a chiedere di creare il costruttore sinistro e destro quindi private espressione sx e private espressione destra dis.sinistro uguale a sinistro e dis.destro uguale a destra ok e il valore ovviamente è la somma dei due valori quindi sinistro punto value più destro punto value a questo punto l'espressione ovviamente è da salvare è tutto corretto rilancio testo e struttura e a questo punto vedete che ho un verde quindi ho fatto un altro piccolo passo avanti andiamo a fare un test prodotto ok 3 2 e immaginiamo che faccia 6 e qui non è più ma è per molto velocemente vado a creare il metodo per nella classe espressione return new prodotto this virgola e prodotto me lo faccio creare e faccio aggiungere il costruttore che sostanzialmente è uguale a quello di prima il valore questa volta mi restituisce sinistra punto value per dx punto value test struttura verde ok adesso sto andando molto più velocemente di prima ma prima andavo proprio passo passo per farvi capire l'idea diciamo che a questo punto abbiamo concluso diciamo il primo pezzo nel senso che abbiamo i numeri abbiamo le somme i prodotti diciamo che il primo pezzo di requisito potremmo considerarlo fatto ok dopodiché aggiungeremo ancora le variabili e poi la valutazione con i valori delle variabili ok questa è la classe espressione per il momento facciamo una pausa e iniziamo a ragionare nello sviluppo e iniziamo a ragionare su quello che vi dicevo prima e che era è stato anche è stato fuori dopo la domanda come possiamo andare a fare un refactoring di questa struttura ok ci sono delle semplificazioni che possiamo fare possiamo andare a ristrutturare il nostro codice in modo che sia più semplice più riutilizzabile più facilmente comprensibile vi lascio con questa domanda e ci rivediamo tra dieci minuti dopo una breve pausa quindi alzatevi prendete una boccata d'aria prendete un caffè o qualunque altra cosa e noi ci rivediamo tra dieci minuti per capire come ristrutturare questo codice allora come potremmo andare a ristrutturare o meglio a rifattorizzare utilizzando la parola refactoring questo codice avete delle allora il metodo numero è questo allora domanda uso di tipi generici allora potremmo utilizzare dei tipi generici per avere ad esempio qua oltre a double altri numeri sì scusate ma eccolo qui asse numero era qua allora suggerimento classe operazione ecco questo è sensato ok se guardate la classe somma e la classe prodotto ok passo da uno all'altro tolgo l'evidenziazione vedete che sono praticamente identiche tranne questo metodo value ok quindi sì operazione potrebbe essere un modo a questo punto cosa facciamo creiamo una nuova classe operazione o meglio operatore che estende espressione vado a copiare il tutto ad esempio da prodotto qui ovviamente si chiama operatore questi magari invece di fare i private facciamo protected la classe la dichiariamo abstract non mettiamo il value ok finora non è cambiato nulla perché la classe è esterna ok non è ancora collegata al resto a questo punto proviamo a mettere prodotto come non più estensione di espressione ma come estensione di operatore abbiamo più bisogno di questi abbiamo qui un super sinistra destra allora sinteticamente funziona tutto infatti non abbiamo errori ma in termini di funzionalità funziona ancora tutto abbiamo qui i nostri test per cui li eseguiamo funziona ancora tutto andiamo a modificare anche somma operatore e andiamo a mettere somma di super sinistra e test vi faccio notare che qui posso utilizzare sx e dx perché li ho dichiarati protected in nell'operatore ho fatto questa modifica andiamo a verificare che tutto funziona ancora verde ok quindi quello che funzionava prima continua a funzionare adesso ricordatevi i test vi danno una rete di sicurezza per poter camminare sul vostro filo teso a 100 metri da terra senza rischiare di schiantarvi per terra ok perché se commettete un errore invece di schiantarvi per terra avere il vostro programma che non funziona il test vi intercetta l'errore e vi permette di risolverlo prima di fare qualunque altro passo falso ok andiamo oltre immaginiamo di evitare di avere delle classi somma prodotto eccetera andiamo qui nella classe operatore andiamo a dire che la classe operatore la vogliamo rinominare in operatore ho fatto ctrl shift r ctrl alt r scusate operatore aritmetico e andiamo a dire che qui mettiamo un altro costruttore che invece di avere semplicemente espressione destra e espressione sinistra mi definisce c'è anche un ring l'operatore dis operatore uguale a op a questo punto faccio un override di public table value ho rinominato operatori in operatore aritmetico sì e quindi ovviamente mi ha aggiornato avendo fatto un ctrl alt r mi ha rinominato quella classe in tutto il codice e quindi faccio uno switch su operatore case più return 6x punto value più dx punto value meno diviso euro se non è nessuno di questi possiamo dire che restituiamo note number ok? potremmo fare un controllo qui nel costruttore ok? a questo punto dopo aver fatto questa modifica verifichiamo che il test passino ancora, benissimo e a questo punto in espressione qui invece di andare a creare new somma faccio return di new operatore aritmico più ok? ovviamente operatore aritmico però non è più astratto perché ho implementato l'interfaccia, scusate il metodo value e idem qua sotto sul prodotto dopo aver fatto queste modiche funziona ancora tutto vediamo il test cide ancora verde quindi a questo punto le due classi somma e prodotto possiamo anche buttarle via ok? quindi somma delete prodotto delete funziona ancora tutto dopo aver buttato via le classi? sì ok? ricordatevi che i test sono quelli che vi dicono che state facendo qualcosa che non è completamente sbagliato ora il test verde non vi garantisce che tutto funzioni ma quantomeno se non passa da verde a rosso vi dice che non avete aggiunto problemi con le vostre modifiche ok? a questo punto torno un attimo ad esempio abbiamo il problema delle variabili ok? dobbiamo avere le 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 variabili che hanno un nome quindi vado ad aggiungere ovviamente possiamo qui aggiungere tutti i vari test per la somma prodotto la divisione la sottrazione eccetera vado ad aggiungere un test variabile scusate prima di fare questo riepilogo un attimo quello che abbiamo fatto in termini di classi ok? questo è il diagramma degli oggetti quello che abbiamo fatto per il momento è avere la classe espressione una classe operatore aritmetico aritmetico qui dentro noi abbiamo un metodo che si chiama value che è ovviamente ridefinito con un override sia nell'operatore aritmetico che nel numero dentro il numero abbiamo n che è un double dentro l'operatore aritmetico abbiamo op che è una string in più l'operatore legato con una associazione chiamiamo SX e un'altra associazione scusate che chiamiamo DX quindi in termini di cardinalità un operatore ha un'espressione come operando sinistro e ha un'espressione come operando destro un'espressione può essere operando sinistro di 0 o 1 operatori e operando destro idem di 0 o 1 operatori ecco qui la nostra struttura composite dove questo è il component questa è la foglia e questo è il composite quindi quando abbiamo una struttura di questo tipo è immediato quando abbiamo un problema di questo tipo è immediato andare a fare una struttura analoga a questa ok torniamo al nostro codice abbiamo test variabile diciamo che vogliamo mettere una variabile che chiamiamo x non numero ma bensì variabile ok a questo punto dobbiamo andare a creare variabile la valutazione come la facciamo fatemi prendere una scorciatoia rispetto al codice che avevo scritto all'inizio ok poi arriviamo a scrivere quel codice lì immaginiamo che ci sia una mappa string double e chiamiamo tabella uguale new hash map ovviamente dobbiamo andare a importare sia hash map che map ok e in tabella andiamo a mettere per la variabile x il valore 42 quindi 42.0 e punto value e diciamo che passiamo a value la nostra tabella perché altrimenti il rischio è che non siamo in grado di capire quanto vale una variabile scusate qui tra l'altro vedete che avendo scritto 42 questo me l'ha preso come un intero in realtà devo scrivere 42.0 in modo che sia un double e faccio il il boxing perché altrimenti il boxing da un intero a double come classe wrapper non c'è quindi serve un'altra funzione un altro metodo dentro espressione che ci costruisca un oggetto di tipo variabile quindi public static espressione variabile ring name return new variabile variabile name non c'è ce lo facciamo creare da eclipse e ci facciamo creare anche il costruttore con una stringa this.name uguale name ok a questo punto c'è il value con la tabella che dobbiamo aggiungere qua sul nostro sulla nostra espressione ok fatemelo aggiungere direttamente di qua possiamo creare un metodo astratto dentro lo metto tranquillamente public questo punto ovviamente numero deve aggiungere quel metodo e ovviamente essendo un numero una costante il valore non cambia che ci sia o meno una tabella con i valori operatoro aritmetico che lui sostanzialmente è equivalente quindi map di string virgola double tabella sostanzialmente fa la stessa cosa passando la tabella a destra e a sinistra a destra e a sinistra ovviamente ovviamente qui devo aggiungere il metodo con la tabella e qui andiamo a fare tabella punto possiamo fare get or default la chiave è il nome e default è double punto not the number per il momento non sto mettendo eccezioni però ovviamente questo questo metodo qui e il fatto che non ci siano non ci sia una variabile definita si presta molto bene a utilizzare le eccezioni ok le aggiungiamo dopo magari ma per il momento limitiamoci al caso più semplice ovviamente se chiedo di 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 valutare una variabile dove non c'è il risultato dico che questa non è valutabile a questo punto se torno al test sintaticamente funziona abbiamo aggiunto un po' tutto provo ad eseguire il test e questo funziona a questo punto posso provare a fare dei test un pochettino più elaborati per cui posso riprendere il mio esempio allora il test è qua allora riscrivo sostanzialmente l'espressione del nostro esempio di primo esempio che mi ha scritto e funziona nell'esempio avevo messo 2x5 e avevo messo ax il valore di 3 quindi ax assegno 3 quindi 2x3 fa 5x5 dovrebbe fare 25 allora allora ah scusate ho messo due metodi con lo stesso nome test test l'espressione complessa e questo funziona quindi mi dà il risultato che mi attendevo ok non è esattamente ancora l'esempio ma ci stiamo avvicinando a questo punto facciamo un'altra un altro refactoring allora sì arriviamo su il metodo get or default sostanzialmente mi restituisce mi fa un'operazione di get passando la chiave che è il nome or default e se la la chiave non c'è restituisce questo valore di default che è not a number questa cosa qui equivale grosso modo a dire if tabella if not tabella punto contains key name return double punto not a number altrimenti return tabella punto get ok poi ovviamente non lo posso scrivere qua perché c'è già un return però se vi commento questo questo è equivalente all'altro solo che è un pochettino più compatto se c'è il nome lo restituisce il valore corrispondente se c'è la chiave lo restituisce il valore corrispondente altrimenti restituisce l'altro è un po' più compatto di scrivere quella quella doppia chiamata domanda non potremmo eliminare il metodo value a quale passiamo la mappa sì perché potrebbe semplificarci un po' la vita devo riscrivere i test ok perché i test precedenti non passerebbero avrei un metodo che non esiste ok in ogni caso non mi garantirebbe che nella mappa ci siano le variabili necessarie quindi sì lo possiamo eliminare ma non è detto che ci semplifichi la vita domanda non sarebbe meglio se non fosse il client ad avere la mappa sì concordo ed è infatti il motivo per cui io vi avevo scritto quest'altra questo è a posto quest'altra variante convaluta diciamo con semplifichiamo questo assegna con x che vale 3 andiamo a valutare quindi in questo caso la mappa non c'è ma vado a scrivere quali sono i valori ok ci arriviamo tra un attimo a scrivere questa questa variante in questo modo la mappa non la non ce l'ha esplicitamente il client ma è gestita in qualche modo dal nostro sistema domanda ma questa classe stratta potrebbe essere una interfaccia ok l'unica risposta secca è sì e io concordo ok proviamo a trasformare l'interfaccia e vediamo che cosa comporta public interface espressione il motivo è perché non abbiamo bisogno di distanziarla effettivamente non distanziamo mai espressioni distanziamo sempre le sottoclasse allora questi due metodi è inutile che li dichiariamo astratti perché tutti i metodi della della nostra interfaccia sono automaticamente astratti numero e variabile non funzionano più tanto bene ma perché perché sostanzialmente dicono extense invece di implements ok anche qui variabile implements operatore implements ok abbiamo semplicemente questo questo dettaglio ok quindi questi due metodi statici funzionano i metodi statici possono stare tranquillamente nell'interfaccia benissimo gli altri metodi senza implementazione sono ragionevolmente dei metodi che sono astratti l'unico problema cioè l'unico problema il problema è dato da questi due metodi ok io non posso mettere dei metodi di distanza all'interno di un'interfaccia a meno che non dichiari questi metodi come metodi di default essendo dei metodi di default non fanno riferimento ad alcun attributo non possono fare riferimento ad alcun attributo dell'oggetto corrente perché comunque tra l'altro non ci sono ma vengono comunque ereditati dalle classi che implementano questa interfaccia a questo punto abbiamo fatto tutto sintaticamente vedete che non ci sono errori lanciamo i test ok salviamo espressione c'è un errore scusate in esempio ah c'è un errore qui in esempio sostanzialmente perché qui non avevo fatto un import static e qui in esempio io espressioni punto asterisco spesso il punto espressione punto asterisco ok scusate avevo scritto male quindi con l'import static questa scrittura funziona quindi rieseguo i test per verificare che col cambiamento tutto funzioni e quindi tutto funziona qual è il vantaggio? il vantaggio è che a questo punto noi possiamo andare a costruirci una classe che estenda che implementi espressione o magari estenda qualche altra classe se ci serve a questo punto torniamo ai nostri test e cerchiamo di andare a scrivere un qualcosa di questo tipo paruta con quindi test void test con tabella implicita o così andiamo a scrivere questa nostra espressione esattamente come prima però vogliamo andare a valutare in questo modo ok e possiamo fare anche un assert equals esattamente come prima stavolta abbiamo il risultato scusate salvo a questo punto qui dobbiamo decidere come procedere questo valuta chiamato su un'espressione che cosa ci restituisce una possibilità è che ci restituisca un'altra espressione allora anche in questo caso anche con il risultato x è uguale a 3 ok quindi 3 più 2 è 5 per 5 è 25 quindi sostanzialmente questi due metodi hanno lo stesso significato solo che qui nel primo caso ho una tabella esplicita nel secondo caso uso questo modo diciamo fluent di esprimermi qui faccio un qualcosa che può quasi essere letto come una frase di linguaggio naturale ovvero la domanda è su che tipo di oggetto andrò a chiamare il metodo CON che sostanzialmente aggiunge un'associazione nome valore all'interno di una tabella ecco abbiamo due possibili strategie una mettiamo tutto dentro l'espressione però a questo punto l'espressione deve avere al suo interno una tabella oppure opzione 2 molto meglio crea una nuova classe che è diciamo così una classe di valutazione che conterrà la tabella conterrà l'espressione e permetterà di fare queste associazioni valore nome valore per le variabili quindi sostanzialmente scusatemi vado un attimo sul diagramma oml che provo a completare quindi abbiamo operatore numero e abbiamo un'altra classe che è variabile che ovviamente ha un name una stringa e ha il metodo value che in realtà non restituisce voi ma restituisce double double e qui per semplicità non vi metto le due varianti del del value ricordatevi che ci sono e ovviamente variabile estende espressione l'idea è di andare a creare una classe valutatore che è legato a una classe espressione un valutatore è legato chiaramente a un'espressione e un'espressione potrebbe essere oggetto di tante valutazioni quindi io potrei valutare la stessa espressione ad esempio con valori delle variabili diverse quindi qui zero o più e dentro questo valutatore ho una tabella scrivo map potremmo mettere una classe map esterna ok e quindi poi rispondo alla domanda che c'è in chat finisco qua quindi questo qui avrà un metodo che si chiama con che accetta la variabile che è una stringa e nome e valore che è un double e poi ha un altro metodo che si chiama valore che restituisce il double allora domanda potrebbe aver senso un attributo static map all'interno dell'espressione e con il metodo con si inserisce l'attributo della mappa il valore delle variabili il problema di utilizzare gli attributi statici è che a questo punto tutte le espressioni condividono la stessa tabella di valori quindi se ho dieci espressioni che hanno dentro una variabile che si chiama x x a questo punto vale lo stesso valore in tutte le espressioni cosa che probabilmente non è così garantita per cui in generale funziona sia un'unica espressione che però mi sembra un'assunzione un po' restrittiva quindi in generale a meno che ci sia un'espressione unica in questo contesto utilizzare attributi statici è come nel 99% dei casi un problema perché vuol dire che se io lo cambio in un'espressione non lo cambio solo in quell'espressione ma lo cambio in tutte quindi ho degli effetti collaterali di travaso di espressioni da un'espressione all'altra che non è evidente ovviamente se ci fosse un'unica espressione o se l'espressione fosse qualche altro tipo di struttura dati unica all'interno del nostro sistema allora potrebbe aver senso però in generale la raccomandazione è non utilizzate gli attributi statici a meno che veramente sapete cosa state facendo osservazioni gli attributi nell'interfaccia sono anche fine sì posso avere delle costanti e quindi posso avere attributi fine all'interno della mia della mia della mia interfaccia allora vado a recuperare il codice il nostro valuta mi ha detto che non c'è quindi ce lo facciamo creare da Eclipse non facciamo restituire un hobby ma facciamo restituire un oggetto valutatore questo è un default e qui fa un return new valutatore this ovviamente dobbiamo creare una classe valutatore e nella classe valutatore creare il costruttore con il parametro dell'espressione quindi private espressione e this punto e uguale espressione a questo punto se andiamo nella nostra struttura data nel nostro test dobbiamo avere un metodo con da aggiungere al metodo alla classe valutatore quindi chiediamo Eclipse di crearci questo metodo questo vuol dire che qui dentro dobbiamo avere un private map string double tabella uguale new hash map dobbiamo importare map e dobbiamo importare hash map quindi il con sostanzialmente fa un tabella punto put nome valore volendo andare a concatenare tanti con e poi valore qui return potrebbe essere this dove l'oggetto è il nostro valutatore ovviamente l'ultimo pezzo che ci manca è di andare a avere un metodo valore dentro valutatore che sostanzialmente va a prendere la nostra espressione punto value e qui passa la tabella a questo punto torno sul mio test lo eseguo ed è tutto verde quindi anche questa espressione ha funzionato ok quindi siamo riusciti a arrivare a quel punto ovviamente i test che abbiamo scritti sono molto molto semplici quindi abbiamo soltanto un paio di operatori non abbiamo tutto ma siamo arrivati a questo punto i test ci hanno sostenuto fino adesso quello che possiamo fare a questo punto è insomma riprendendo gli argomenti dell'ultima lezione aggiungere delle eccezioni per cui nelle nostre classi andiamo a nella nostra package scusate andiamo a creare una nuova classe che espressione exception estende exception public espressione exception string messaggio super messaggio quindi prevediamo di creare questa eccezione passando una stringa col messaggio che descriva qual è il problema a questo punto andiamo nel nostro test e andiamo a vedere come possiamo fare i test in presenza di eccezioni ok vi recupero velocemente le eccezioni allora domanda perché conviene restituire un valutatore quindi sostanzialmente perché faccio return this qua questo perché mi permette di andare a concatenare tante chiamate una dopo l'altra per cui ad esempio qui io ho scritto con x3 e potrei andare a scrivere punto con y4 eccetera eccetera quindi restituendo l'oggetto valutatore stesso posso andare a concatenare tante chiamate sullo stesso valutatore una dopo l'altra per concludere con ovviamente valore che non restituisce più un valutatore non restituisce il valore double ok quindi mi permette di fare questa operazione di concatenazione di continuare a chiamare dei metodi sullo stesso oggetto senza dover scrivere valutatore punto valutatore punto eccetera allora a chiamare Allora, scusatemi un attimo, non lo trovo. Ovviamente è in altra parte. Eccoci qua. Allora, quando dobbiamo testare delle eccezioni, abbiamo sostanzialmente due casi tipici. Dobbiamo testare se l'eccezione viene generata, quando effettivamente dovrebbe esserlo, e invece dobbiamo anche andare a verificare che l'eccezione non venga generata quando invece non è attesa. Prima parte. Se noi abbiamo la necessità di andare a verificare che un certo metodo, ad esempio questo metodo che vediamo qua, lanci un'eccezione quando gli passiamo un certo argomento, dopo chioccio la test, noi possiamo mettere tra parentesi tonde expected uguale e poi il nome dell'eccezione punto classe. Questo vuol dire che il frame o jUnit, nel caso in cui venga generata un'eccezione, e l'eccezione sia questa, considererà il test come superato. Normalmente se io ho un'eccezione il test viene considerato fallito, come tramite un errore. Se invece scrivo expected e viene generata esattamente questa eccezione, allora il test viene considerato superato. Invece, se non mi aspetto l'eccezione, posso tranquillamente scrivere il mio metodo di test senza nulla. Ovviamente devo mettere un trowse, perché i metodi che ricevono un test devono in qualche modo gestirlo, quindi o intercettarlo o propagarlo, e quindi mettendo un trowse sostanzialmente permetto che venga generata un'eccezione, non la gestisco io nel test, nel metodo di test, ma la passo al frame o jUnit che intercetterà l'eccezione e sostanzialmente andrà a segnalarmi un errore perché questo metodo ha lanciato un'eccezione quando invece non era attesa. Ok? Quindi a questo punto andiamo a inserire nei nostri metodi dell'espressione anche le eccezioni. Allora, sui numeri sostanzialmente ho poche eccezioni, nel senso che se lo valuto va bene, se una somma anche, se un prodotto sostanzialmente va bene. Quello che potrebbe succedere è che io vada a costruire un'espressione che in realtà non è valida. Quindi andiamo a dire test operatore non valido. Quindi ho un'espressione L uguale numero 3, espressione R uguale numero 2, poi espressione R uguale new, operatore aritmetico per cento L, e poi faccio errata punto value, e qui vado a dire expected uguale e vado a mettere la mia espressione exception to us. ovviamente qui dovrei avere un trowse expression exception. Ora, se io vado ad eseguire il test in questo modo, ovviamente ho un fallimento perché mi dice, mi aspettavo un'eccezione, ma non è arrivata nessuna. Questo vuol dire che value su un operatore aritmetico, quando ho un'espressione non valida, mi deve dare un'eccezione. Quindi se vado a prendere il metodo value di operatore aritmetico, qui non devo fare un return, ma bensì devo fare un trow. new espressione exception, operatore non valido, e qui andiamo a mettere più operatore. ovviamente qui vuol dire che ho un trowse expression exception. Questo qui mi viene segnalato come un errore perché sostanzialmente la classe operatore aritmetico implementa l'interfaccia espressione, ma nell'interfaccia espressione questa eccezione non è dichiarata. Io non posso aggiungere un'eccezione a un'interfaccia quando l'interfaccia non mi dichiara l'eccezione. Perché ovviamente gli utenti di quell'interfaccia non si aspettano un'eccezione se nell'interfaccia non è dichiarata. Quindi questa eccezione la devo dichiarare anche qui e ovviamente anche qui. a questo punto il nostro operatore aritmetico ovviamente dovrà generare un'eccezione anche qui e dovrà andare a generare un'eccezione in questo caso. Ovviamente il valutatore quando chiama il metodo value deve propagare l'eccezione e qui tutti i metodi che prima chiamavano value devono poter andare a generare l'eccezione. Quindi tutti i metodi di test devono prevedere di lanciare un'eccezione. Domanda Aggiungendo throws all'interfaccia comporta che tutti i metodi definiti nelle classi che le implementano possono lanciare un'eccezione. Sì, esattamente. non è detto che debbano però possono per cui se io vado a prendere ad esempio il numero che è quello più semplice qui non ho dichiarato throws perché questa particolare implementazione non lancia l'eccezione mentre invece l'operatore aritmetico dichiara throws perché lui effettivamente può lanciare l'eccezione. Quindi sostanzialmente dice che le implementazioni dell'interfaccia possono lanciare l'eccezione ma non sono obbligate. Viceversa se un'implementazione lancia l'eccezione ma l'interfaccia non la dichiara ecco questo viene considerato errore perché è possibile che un utente usi l'interfaccia senza conoscere tutte le implementazioni. Quindi se si ritrova un'implementazione che la lancia mentre l'interfaccia non lo dichiara ecco che c'è un problema. Quindi a questo punto provo un attimo a eseguirlo e a questo punto mi dà ovviamente verde perché il metodo calcola scusate il metodo value sull'operatore mi lancia l'eccezione. Ok altro test quando abbiamo una variabile se la variabile non è definita nella tabella vado a vedere se effettivamente mi viene generata l'eccezione. non definita. Quindi mi aspetto che qui anche in questo caso venga generata un'eccezione. Ok quindi non metto questo put quindi la tabella c'è ma è vuota non c'è la definizione di x e quindi a questo punto quando faccio un valuta chiamo il metodo e ignoro sostanzialmente il valore di ritorno tanto questo metodo dovrebbe generare un'eccezione se mi restituisce un valore comunque è un fallimento quindi inutile andare a controllarlo. A questo punto lancio ho un errore quindi effettivamente manca quella verifica perché il value della variabile qui mi dice che comunque resiste un valore quindi in questo caso dovrei andare a dire if throw new espressione exception variabile non definita due punti più e mettiamo il nostro nome altrimenti inutile che fare un get or default faccio semplicemente un get perché sono sicuro che ci sia la variabile ovviamente questo prevede che io vada a aggiungere un throws qui stavolta va benissimo perché è compatibile con la dichiarazione di value dell'interfaccia che dichiara un throws questo punto rieseguo il mio codice e a questo punto diventa verde ok a questo punto nell'ottica di ridurre gli errori di questi ultimi due test che ho scritto uno dei due potrebbe essere eliminato allora questo sulle variabili non definite lo posso scrivere così lo posso anche scrivere fatemelo scrivere anche nell'altro modo così verifichiamo che anche il valutatore ci dia test con tabella non definita mi aspetto l'eccezione se invece di definire x vado a definire ad esempio y questo test non mi porta a sviluppare nessun codice perché sostanzialmente mi verifica che quella caratteristica lì è già presente possiamo anche togliere questo mentre è possibile che io mi dimentichi di definire una variabile è difficile andare a non a a essere sicuro che chi ha definito una espressione con delle variabili poi le definisca quello che posso invece andare a fare è evitare che qualcuno mi possa definire un operatore aritmetico con qualcosa che non ha senso ok come posso fare questa operazione lo posso fare in maniera molto semplice posso andare a dire che l'operatore aritmetico è un qualcosa di interno quindi perché devo renderlo pubblico ok quindi se io vado a prendere il mio operatore aritmetico e dico che non è pubblico ma bensì è una classe con visibilità di package automaticamente e questa operazione qua io non la posso più fare se sono all'esterno ok il test io l'ho messo dentro la mia interfaccia ma se io mettessi il test fuori scusate dentro il mio package se io lo mettessi fuori quindi andassi a definire qui un nuovo package che vado a chiamare tipo litro.espressioni punto test e mettessi il mio test qui dentro quindi sostanzialmente ho spostato il test dal package in cui c'erano tutte le altre classi a un altro package che si chiama come quell'altro però punto test a questo punto se andiamo qui dentro vedete che operatore aritmetico non è più visibile ovvero io non posso andare a creare un oggetto operatore aritmetico direttamente al di fuori del package espressioni quindi questo problema che potrebbe essere che diciamo con l'approccio precedente di 5 minuti fa viene segnalato come un errore runtime andando a nascondere la classe operatore aritmetico quindi renderla visibile soltanto al package sostanzialmente mi impedisce di fare quell'errore perché comunque l'operatore aritmetico non può essere creato direttamente chi è che crea l'operatore aritmetico l'unico che crea l'operatore aritmetico è uno di questi metodi scusate dentro espressione che sono più per ma questi restituiscono un'espressione quindi se qui vado a utilizzare un operatore corretto se non sbaglio qui non ho problemi e quindi basta che questo codice dell'interfaccia sia coerente con gli operatori corretti di operatorio aritmetico e automaticamente il tutto funziona quindi tornando dentro struttura se io vado a togliere questo questa creazione intermedia il tutto funziona ok allora qui ho ancora un errore perché ovviamente scrivendo quel metodo ho avuto un import che a questo punto non è più fattibile perché quell'oggetto è nascosto ok stessa cosa io lo posso fare su numero e su variabile e le ho nascoste cioè le ho rese visibili soltanto al package in questo modo dall'esterno io non posso creare questi oggetti l'unico modo di creare quegli oggetti è tramite espressione che ovviamente è fatta sapendo quali sono le classi e quindi le crea nella maniera corretta ovviamente se vado a eseguire il mio test di nuovo ho un verde nel senso che anche nascondendo queste variabili tutto continua a funzionare quindi domanda anche valutatore può avere visibilità di package no valutatore non può avere una visibilità di package perché quando vado a crearlo scusate qui in fondo ecco quando faccio valuta qui ottengo l'oggetto valutatore e quindi valutatore deve essere visibile altrimenti qua non lo posso utilizzare alcuni metodi di valutatore però in realtà il valutatore è molto semplice valutatore ecco l'unica cosa che potrei fare dentro valutatore è rendere il costruttore di package in modo che sia possibile creare un valutatore soltanto da un'altra classe o interfaccia del package ecco questo potrebbe essere questo potrebbe avere senso perché in questo modo il valutatore può essere costruito soltanto tramite espressione e quindi espressione è l'unico che il metodo valuta è l'unico che lo può creare di nuovo evitiamo degli usi che non siano diciamo così corretti o che potenzialmente potrebbero essere errati andando a nascondere tutto direi che con questo per oggi abbiamo visto un esempio abbastanza complesso con un po' di dettagli riepilogando date un'occhiata ai pattern perché potrebbero essere utili per risolvere problemi tipici non fanno parte dell'esame però vi possono aiutare in generale e in generale tenete presente l'approccio di questo tecnica test driven development che parte dai test e lascia guidare lo sviluppo ai test quindi man mano che aggiungete i test li implementate il grosso vantaggio come avete visto è che io qualunque modifica faccia poi a posteriori mi ritrovo già il mio set di test pronti per cui piccola modifica verifico e quindi sono sicuro che non ho introdotto un nuovo errore rispetto a prima o se c'era non era qualcosa che era intercettato dai test con questo chiudiamo la lezione di oggi che